Paesaggio bagnato. Oimè, piove. Qui, in questo paese, dove sono insicuro dai cappelloni, mi resta ancora un nemico. L'acqua. Parto da Mileto, che viene giù di rotta, fredda, pesante. Non ci sono scappatoie. Bisogna pigliarsela. Tre chilometri dopo Mileto comincia una salita dura. Durissima. 85 per mille, che va su fino a 520 metri. I tourniquet si svolgono sotto piante annose, in un paesaggio vario, ma troppo bagnato. Davanti a me trotterellano un lungo e allampanato personaggio che quasi ricinge con le gambe esterminate la pancia del muletto. È un contadino tozzo, corto, goffo, adiposo. Don Quixote e Sancio, penso io, passando loro a fianco. Ed ecco i destrieri imbizzarriti dalla bicicletta partire al galoppo sfrenato, l'uno a destra, l'altro a sinistra per i campi. Tableau. Tocco la cima, dove le nubi radono la campagna. È scuro. Di fianco alla strada si sta collocando una condotta d'acqua per Monte Leone. Entro in un lungo viale fiancheggiato da betulle maestose, che gli fanno sopra una volta tutta di fogliame, come una galleria verde a pilastri bianchi. A destra e a sinistra, foltissima, è la nebbia nei campi silenziosi. Ma sulla strada non ce n'è punto. È come un foro, un tunnel nella nube umida. Mentre faccio colazione a Monte Leone, piove dirottamente. Noleggio per ventilire una carrozza per Tiriolo. 57 chilometri di montagna non è caro. E riparto.